Buonasera a tutti Orchetti, sei Norco Verde. In questo video volevo informarvi che finalmente Rockstar Games, oggi pomeriggio, ha rilasciato l'aggiornamento completo di Red Dead Online. Con questo grande aggiornamento sono state aggiunte modalità, giochi d'azzardo, miglioramenti e altro, di cui sicuramente in questi giorni caricherò il video di tutti questi nuovi contenuti sul canale. Ma la cosa ancora più bella è che con questo grande aggiornamento Red Dead Online non sarà più in versione beta. Se non avete ancora scaricato l'aggiornamento di questo grande aggiornamento, dovrete scaricarlo sulla propria console PS4 e Xbox One. L'aggiornamento peserà intorno ai 3 giga. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se siete nuovi iscrivetevi al canale e poi seguitemi sui social. Trovate tutte le link nella descrizione. E da Orchetti Verde, tutt'ora ci vediamo al prossimo video. Bella!